Sì, sono Carlotta Biffi e sono qui per presentarvi l'opera di Damiano Conti Borbone, Equazione d'Amore. Come in Art Not Found, la composizione risulta ridursa in minimi termini, annientarsi e lacerarsi in poche semplici linee, che in collaborazione con una palette estremamente minimal, si rendono protagoniste di un delicato intreccio dai molteplici significati. Equazione d'Amore si configura come una forma di bilanciamento estremo della composizione, la ricerca di un equilibrio pressoché matematico che ne evidenzi le parti in gioco. A dominare è il rosso acceso dei cuori, l'uno l'immagine speculare dell'altro, che rompono nello spazio come fuochi d'artificio. È un'interpretazione originale quella di Damiano Conti Borbone, un manifesto alla reciprocità e al continuo gioco di scambi che richiama quello amoroso, scambi di bianco e nero, di forme chiusi aperte, di pesantezza e legge abria, di soppocamento e liberazione. Grazie per la vostra attenzione, sono Carlotta Biffi da My Gallery Adunanza.